Buonasera, do il benvenuto a tutti coloro che sono in sala e non solo. Oggi, attraverso la conferenza, l'intervento della professoressa Giacardi, andiamo a concludere fisiologicamente il ciclo di lezioni legate alla mostra di intitolato appunto Leonardo e i suoi saperi, organizzata dalla Fondazione Firpo, dalla Biblioteca Universitaria Nazionale di Torino e dalla Università degli Studi che qui in questo momento rappresento per quanto riguarda la mostra e ovviamente anche Livia Giacardi per il Dipartimento di Matematica. L'intervento che oggi la professoressa Giacardi terrà e si lega a un argomento che finalmente in qualche modo interseca dei territori inediti rispetto al versante tematico, anzi ai versanti tematici che sono stati appunto affrontati nelle precedenti relazioni, nelle precedenti conferenze che avevano un taglio legato a ricerche, a settori scientifico disciplinare squisitamente umanistici. Non ovviamente, questo non per definire la matematica come una scienza non umanistica, ma abbiamo finora trattato di storia dell'arte, di letterature comparate e di storia e soprattutto anche di estetica. Ogni conferenza ha un principio, trova il suo principio in un volume esposto in mostra o un documento che abbiamo ritenuto doveroso, obbligatorio e culturalmente significativo esporre nella mostra. E dunque proprio attraverso l'aiuto e la collaborazione della collega Giacardi abbiamo esposto in mostra due opere di due volumi, anzi uno un saggio e l'altro un volume, di Roberto Marco Longo. Il primo, dal punto di vista cronologico, è l'intervento su Leonardo da Vinci nella storia della matematica e della meccanica che fu presentato al congresso internazionale dei matematici a Bologna nel 1928 e poi avevamo presentato anche un'opera più tarda, più avanzata cronologicamente e quindi il Leonardo da Vinci artista scienziato pubblicato nel 39 al quando Marco Longo era membro appunto della reale commissione vinciana. Da questo, da questa testimonianza legata appunto come spiegherà la collega Giacardi a Leonardo abbiamo così pensato a questo intervento che ci sembra particolarmente interessante proprio per ancora una volta sottolineare il senso enciclopedico e la varietà enciclopedica del sapere appunto leonardiano. Prima di passare la parola alla professoressa Giacardi volevo darne una brevissima sintetica epigrafica presentazione. La professoressa Giacardi è professore ordinario di storia delle matematiche presso il nostro Ateneo, l'Università di Torino ed è autrice di una messe notevolissima di pubblicazioni, trassaggi, edizioni critiche, volumi sulla storia della matematica con particolare attenzione alle tradizioni scientifiche in Torino e in Piemonte. Inoltre alla storia delle istituzioni e a quella dell'insegnamento delle matematiche. È stata segretario della Società Italiana di Storia delle Matematiche, è membro del suo consiglio direttivo e ha fatto inoltre parte della Commissione Scientifica della Unione Matematica Italiana e della Commissione Italiana per l'insegnamento della matematica. Dal 2016 è socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Brevissima epigrafica l'introduzione rispetto, come vi dicevo, ad una produzione estremamente vasta, estremamente articolata. Oggi quindi anche a nome della dottoressa Stango e quindi della Fondazione Firpo e a nome della Biblioteca Nazionale Universitaria diamo non solo un ulteriore saluto e un ringraziamento alla professoressa Giaccardi, ma le concediamo la parola. Il titolo della conferenza potete vederlo alle vostre spalle, appunto, sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teorica. Leonardo da Vinci, matematico. Grazie. Ringrazio molto la professoressa Piera Tordella per l'invito per questa presentazione e ringrazio tutti gli organizzatori del ciclo di conferenze legato alla mostra, Leonardo e i suoi saperi. Prima di iniziare voglio fare una precisazione. In un primo tempo avevo dato come titolo Leonardo matematico, ho preferito poi trasformarlo in Leonardo e la matematica. Questo per evitare etichette e fraintendimenti. Leonardo non è un matematico nel senso canonico che oggi diamo ora a questo termine, ma della matematica apprezzava l'utilità, la bellezza e anche la valenza ludica. Nell'enorme letteratura che lo riguarda si riscontra ancora una certa, diciamo, incertezza nel definire la sua personalità multiforme, artista, architetto, inventore, filosofo scienziato. E proprio questa varietà di interessi ha indotto gli studiosi a considerarlo un genio universale e libero, uno spirito libero. Baudelaire, il poeta Baudelaire, metteva in evidenza in questi versi il mistero della sua arte. Il famoso critico Bernard Berenson sottolinea la sua continua ricerca della bellezza, però aggiunge anche, per quanto grande come pittore, gli non fu meno famoso scultore, architetto, musicista, ma tutte le sue fatiche artistiche di qualsiasi natura non assorbirono nella sua carriera che le ore sottratte a investigazioni di scienza teorica e pratica. E in una recente intervista apparsa sulla Repubblica, Renzo Piano lo presenta come simbolo dell'umanesimo che unifica in sé arte e scienza. Certo, quando si leggono le sue carte, si vede come la maggior parte delle sue energie fu assorbita da attività tecnico-scientifiche. Che la scienza abbia un ruolo centrale nell'opera di Leonardo, ce lo dice lui stesso, qui ho riportato solo alcune delle citazioni che la riguardano, quella famosissima, quelli che si innamorano della pratica senza la scienza sono come nocchieri che entrano in naviglio senza timone o bussola, che mai non hanno certezza dove si vadino, sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teorica. E ancora nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni. La scienza è il capitano, la pratica sono i soldati. Nessuna certezza è dove non si può applicare una delle scienze matematiche. Leonardo vive tra 400 e 500 in pieno rinascimento, dunque in un'età di cambiamento in cui maturò un nuovo modo di concepire il mondo e anche l'uomo e si sviluppò quel movimento culturale noto come umanesimo. Però tutta anche tutta una serie di fattori e di eventi caratterizzano questo periodo, eventi che avranno una notevole influenza non solo in campo culturale ma anche in campo sociale ed economico. Le scoperte geografiche ampliano, fra 400 e 500 ampliano il mondo conosciuto, l'invenzione della stampa campia radicalmente i modi di produzione, di diffusione del sapere che prima avveniva attraverso la scrittura a mano delle opere e quindi si favorisce la circolazione della cultura al sorgere di grandi biblioteche. Sorgono grandi centri di stampa, quello più importante sicuramente a quell'epoca quello di Aldo Manuzio a Venezia che entro il 500 pubblica oltre 3.000 opere sulle 5.000 apparse in Italia. Uno dei primi, il primo volume di matematica pubblicato è un'aritmetica anonima stampata a Treviso e qui cito poi la prima edizione degli elementi di Euclida stampa nel 1482 curata da Campano da Novara, opera che fu poi importante insieme a quelle degli altri classici greci per gli sviluppi futuri della matematica. Accanto però le edizioni originali dei classici fioriscono anche dei rifacimenti, delle semplificazioni, tra questi voglio citare il testo di Luca Pacioli, la Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzione e Proporzionalità e il testo di Giorgio Valla, Dex Petendis e de Fugendis Rebus, cioè delle cose da perseguire e quelle da evitare. Ho citato questi tre testi perché tutti e tre compaiono nella lista dei libri posseduti da Leonardo da Vinci che compare nel Codice di Madrid. Nel Rinascimento nasce la prospettiva e mentre nel Medioevo la glorificazione di Dio era lo scopo principale, diciamo, dell'arte, nel Rinascimento la rappresentazione del mondo reale diventa l'obiettivo primario e la geometria, gli strumenti, diciamo, della geometria diventano essenziali per elaborare una teoria che desse, diciamo, agli artisti le regole precise per rappresentare sul piano gli oggetti reali, una realtà tridimensionale. La prima esposizione teorica delle regole della prospettiva si trova nel trattato di pittura di Leon Battista Alberti e viene perfezionata, i risultati di Alberti vengono perfezionati da Piero della Francesca nella sua famosa opera De Prospettiva Pingendi. Tra l'altro Leon Battista Alberti è citato due volte tra i libri, compare due volte nell'elenco dei libri posseduti da Leonardo da Vinci. La formazione matematica degli artisti avveniva nelle scuole d'Abaco, fin da quando queste furono istituite nel Trecento, si configurarono come un livello di studi medio, diciamo, a seguito di un ciclo elementare di studi in cui i ragazzi fanciulli imparavano a leggere e a scrivere in latino e in volgare. Quindi duravano due anni, si poteva accedere a queste scuole intorno ai 10-11 anni e preparavano ad affrontare le professioni mercantili o artistiche. Erano riservate all'apprendimento della matematica proprio, i temi che venivano trattati erano quelli che ho qui indicati, cioè il sistema di numerazione decimale posizionale indorabico, che è il nostro sistema di numerazione, gli algoritmi delle operazioni, le frazioni, il calcolo con le frazioni, problemi utili ai mercanti, sistema monetario di misura, c'erano anche dei cenni al calcolo algebrico e stranamente c'erano problemi di matematica ricreativa. Tutti questi temi sono gli stessi che compaiono nell'Ibarabaci di Leonardo Pisano del 1202, dove però vengono trattati con ben altra profondità. Qui la trattazione è semplificata, si spiega sempre il come, il come affrontare un problema, ma ormai il perché in genere. A raccogliere, diciamo, tutto il sapere abachistico, arricchendolo però con l'eredità dei classici greci, c'è Luca Pacioli. Luca Pacioli che scrive quest'opera enciclopedica, summa di aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità, in cui fornisce anche, fra l'altro, un sommario degli elementi di Euclide. Un'opera importante che sarà il futuro, la base, diciamo, per i futuri sviluppi della matematica nel Cinquecento. E lo suo scopo era, come è stato sottolineato appunto da una studiosa di questo periodo, la ricomposizione del sapere matematico nel suo duplice aspetto, come disciplina accademico-speculativa da un lato e tecnico-pratica dall'altro. La figura di Pacioli è molto importante per Leonardo, che lo incontra a Milano e qui nasce una feconda amicizia. La vita di Leonardo si svolge principalmente in quattro città, la città di Firenze, di Milano, di Roma e di Amboise. La sua biografia, che presenta ancora delle lacune e dei punti oscuri, delle incertezze, ci mostra un uomo che diciamo conduce un'esistenza abbastanza agiata grazie ai proventi del suo lavoro di ingegnere e di architetto presso varie corti. Ma ci presenta anche uno studioso, diciamo, che viaggia molto curioso e attento ad osservare tutto ciò che lo circonda, a sperimentare e uno studioso che cerca di dare soluzioni ai problemi che incontra. Soluzioni che spesso sono estremamente audaci, di fatti sono stati chiamati alcune di queste i sogni leonardeschi. Leonardo nasce nell'aprile del 52 a Vinci da Serra Piero, che era notaio, e da Caterina, con cui Piero aveva avuto una relazione e che era di un livello, diciamo, culturale e anche sociale inferiore. Si forma a Firenze la bottega di Verrocchio, dove era frequentata, diciamo, anche da, dove si formarono anche Botticelli e Perugino. In questa bottega i giovani imparavano il disegno, nozioni di carpenteria, meccanica, ingegneria, architettura e alcuni studi recenti fanno pensare che abbia studiato anche la scuola d'Abaco del maestro Benedetto da Firenze. Nel 1483 va a Milano come ingegnere e pittore alla corte di Ludovico il Moro e qui si interessa di varie cose, di architettura, di costruzioni militari, di anatomia, di idraulica, di bonifica di terreni, però si rende anche conto della sua ignoranza nel fatto, nel campo della matematica. Lui stesso si chiama Homo senza lettere e inizia a studiare i testi, prima di tutto a ricercarli, a raccoglierli e quindi raccoglie una messa di libri che poi porterà sempre dietro di sé. Soprattutto importante è l'incontro con Luca Pacioli quando viene a Milano nel 1496. Con Luca Pacioli si stabilisce un dialogo fecondo, un sodalizio vero e proprio, cioè Leonardo insomma approfondisce lo studio di Euclide con Pacioli anche le sue conoscenze aritmetiche e matematiche, tant'è che poi realizza per Pacioli le tavole dei poliedri che compaiono nella divina proporzione di cui parleremo più avanti. La conquista di Milano però da parte dei francesi nel 499 lo costringe a lasciare la città per Venezia. Dopo un breve periodo dunque in questa città inizia una fase di molti trasferimenti, di viaggio, la ricerca diciamo di nuovi mecenati che potessero garantirgli un benessere economico e quindi anche la libertà, la possibilità di studiare e di dedicarsi agli studi più care, alle in questo, tra l'altro in questo periodo lavora anche al servizio di Cesare Borgia al seguito di una campagna militare. È un periodo di instabilità in qualche modo in cui però si accentua l'interesse per gli studi teorici. Fino che appunto nel 1513 viene chiamato a Roma da Giuliano Medici però la sua permanenza a Roma non è molto felice nel senso che viene escluso da tutte le grandi opere tant'è che nei suoi appunti si legge gli Medici Microorno e Destrussero e quindi si rifugia diciamo nello studio della matematica e negli studi scientifici. Fino a che nel 1517 Francesco I, re di Francia, lo chiama in Francia, gli offre la residenza in un castello presso Amboise e gli dà, gli elargisce una pensione annua come primo pittore, architetto e meccanico del re. È un periodo abbastanza sereno in cui dipinge, compie ricerche di vario tipo, prepara anche feste spettacolari per il re e cerca di riordinare i suoi appunti. Muore nel 1519 lasciando appunto migliaia di fogli manoscritti al discepolo Francesco Melzi che dopo vicende avventurose sono ora conservati in varie biblioteche e musei di tutto il mondo. Alcune di questi manoscritti purtroppo sono andati persi. Ecco questo è solo un breve e sintetico quadro della vita di Leonardo per inquadrare diciamo i suoi contributi, i suoi studi diciamo matematici. Leonardo scrive non mi legga chi non è matematico e nonostante ciò diciamo gli studi su Leonardo e la matematica sono relativamente recenti perché si possono far risalire al libro di libri sulla storia, l'histoire des sciences matematiques in Italy in cui dedica un'ampia parte proprio a Leonardo da Vinci. Anche se gli studi veramente profondi sulla Leonardo e la matematica si possono far iniziare con Marco Longo già citato prima dalla professoressa Tordella negli anni venti, quindi in epoca fascista, tra l'altro l'epoca fascista come voi sapete celebrava il genio italico e quindi la figura di Leonardo aveva un significato particolare. Da allora si susseguono numerosissimi studi che proseguono tuttora, tra l'altro anche vari matematici e fisici si sono occupati di Leonardo, anche se non sempre in modo profondo diciamo. I contributi, cioè i temi di cui Leonardo si interessa, i temi matematici, sono soprattutto quelli che ho qui elencati e che di cui dirò in seguito e mostrano, in generale sono collegati diciamo alle applicazioni, all'arte, all'ingegneria, all'idraulica, ma dimostrano anche un interesse ludico, proprio un piacere della matematica. Lo studio delle proporzioni del corpo umano in connessione diciamo con l'opera dell'architetto romano Vitruvio, costituiscono uno dei primi approcci di Leonardo alla matematica. Come è noto Vitruvio nel De Architettura aveva proposto una suddivisione del corpo umano secondo certe proporzioni. Leonardo parte da qui, da questa suddivisione, la vediamo qui riportata nella trascrizione, per elaborare un suo schema, un suo schema che tiene conto anche dei suoi studi anatomici. Lo vedete qui raffigurato, accompagnato dal note sia nella sopra il disegno che dalla parte inferiore. Si tratta diciamo di un uomo iscritto in un cerchio e in un quadrato, l'ombelico esattamente nel centro del cerchio, lo spazio fra le gambe aperte è un triangolo equilatero e l'apertura delle braccia è pari all'altezza. Ci sono poi altre proporzioni su cui non mi sto a soffermare, cioè interessante anche il fatto che Leonardo considera anche le membri in movimento, quindi vedete prima con le gambe unite, poi con le gambe aperte, le braccia parallele al suolo e poi innalzate. Questa immagine è interessante anche perché si ricollega ad un problema del matematico greco Pappo, il quale aveva individuato nella semicirconferenza, nel semicerchio, le tre medie, la media aritmetica, quella geometrica e quella armonica. Le vedete qui indicate, la media aritmetica è il raggio del cerchio, indicato in verde, la media geometrica è quella rappresentata in blu e la media armonica è quella rappresentata in rosso e stranamente queste tre medie si riscontrano anche nell'uomo vitruviano, insomma di Leonardo da Vinci, le vedete qui raffigurate. Allora che Leonardo ne fosse consapevole noi non lo possiamo dire perché lui non ce lo scrive nelle spiegazioni, però è singolare che questi segmenti che rappresentano le tre medie compaiono in questo quadro. Fra le prime diciamo ricerche in geometria ci sono gli studi per costruire i poligoni regolari con la riga e il compasso ad apertura fissa che era uno dei temi cari ai matematici risorgimentali che tra l'altro risaliva delle ricerche di un matematico persiano a Buluefa e che poi sarà perfezionato a metà del Cinquecento da Gian Battista Benedetti che tra l'altro operò qui a Torino e in seguito nella fine del settecento da Lorenzo Mascheroni. Nella prima immagine voi vedete la costruzione con riga e compasso del in alto del triangolo equilatero, del quadrato, poi del pentagono e dell'esagono regolare. Nelle immagini poste qui a fianco ho voluto evidenziare la connessione che c'è sempre in Leonardo tra la matematica, la geometria e anche l'arte che può essere un cespo di fiori oppure un viso umano che qui vedete iscritto in un esagono. Tra l'altro voglio anche ricordare che la figura del pentagono assume poi un significato particolare nei progetti di fortificazione di Leonardo da Vinci. Come abbiamo detto il suo Dalizio con Pacioli che ha inizio a Milano nel 1496 è importante per la formazione matematica più approfondita di Leonardo. Questo si vede che appunto incomincia a studiare seriamente Euclide si vede confrontando i suoi appunti, i suoi studi su Euclide precedenti al periodo milanese e quelli successivi. Leonardo, questa collaborazione tra questo sodalizio tra Leonardo e Pacioli confluisce proprio nella collaborazione per la preparazione delle tavole dei pogliedri per il divina proporzione di Luca Pacioli. Questa divina proporzione come scritto nel sottotitolo è un'opera dove ciascuno studioso di prospettiva, pittura, scultura, architettura, musica e matematica poteva trovare cose utili e interessanti. Che cos'è la divina proporzione? La divina proporzione è la sezione aure che deriva dal problema geometrico di dividere un segmento in due parti, x e a meno x, tali che astia x come x sta ad a meno x, cioè tali che valga questa proporzione. Noi scriviamo, noi sappiamo che il rapporto aureo è radice di 5 più 1 fratto 2, all'epoca non c'era, non si scriveva in questo modo. E tutta la divina proporzione che cosa fa Pacioli? Pacioli riprende e sintetizza la parte del tredicesimo libro degli elementi d'Euclide relativa alla divina proporzione e ai poliedri regolari, dimostra che questi poliedri regolari sono solo 5 e rifacendosi a Platone illustra le associazioni tra questi poliedri e gli elementi naturali che sono appunto il ecco qui, ecco dimenticato di dire, volevo dire che appunto il fatto che sia proprio Leonardo a disegnare i poliedri per Pacioli, questo è testimoniato da più passi dell'opera di Leonardo da Vinci. Vedete, molto elogiativi, per esempio nel primo parla di prelibato nostro compatriota, nel secondo parla di supreme e leggiadrissime figure, dell'ineffabile sinistra mano, perché come sapete Leonardo scriveva con la mano sinistra e scriveva da destra a sinistra. In questa seconda frase ricorda anche il periodo trascorso insieme, il periodo felice trascorso insieme a Milano. C'è poi la testimonianza anche di studi sui poliedri che sono conservati nel manoscritto M dell'Institut de France, quindi c'è una duplice testimonianza. Ecco, come stavo dicendo, Pacioli descrive questi poliedri, dimostra che sono solo 5, illustra le associazioni rifacendosi a Platone con gli elementi e in particolare il tedraedro rappresenta il fuoco, il cubo, la terra, l'ottaedro l'aria, l'icosaedro che è rappresentato in quest'altra figura, l'icosaedro rappresenta l'acqua e il dodecaedro che è il quarto, rappresenta con le facce pentagoni irregolari, rappresenta il cosmo, l'universo. Queste sono le figure di Leonardo, come vedete sono fatte con estrema precisione e Leonardo disegna sia il solido pieno, cioè solido, sia quello vacuo, cioè lo scheletro del solido. Pacioli continua la sua trattazione descrivendo i solidi dipendenti da quelli regolari, lui le chiama dipendenti, cioè ma sono solidi che sono ricavati da quelli regolari o per troncamento o per stellazione, come si dice adesso, cioè togliendo e aggiungendo solidi uguali e li chiama abscisi o elevati. Ecco qui due bellissimi esempi di un solido absciso che è questo qui sotto e di un solido stellato elevato che è quello nella parte superiore. In questi due siti di cui vi ho messo il link, nel primo potete trovare la divina proporzione, la riproduzione della divina proporzione e nel secondo il sito di matematica dove c'è una spiegazione che ha una valenza didattica, diciamo una spiegazione delle proprietà geometriche di tutti questi pogliedri. Questi sono i pogliedri che compaiono nell'edizione a stampa della divina proporzione e si vede confrontando questi disegni di questa parte della divina proporzione con quelli della prima parte, si vede chiaramente che lo scopo delle tavole di Leonardo non era quello di fornire delle figure che servissero a dimostrare, ad illustrare dimostrazioni geometriche, ma quello di offrire una visione proprio realistica di oggetti matematici astratti. Difatti vedete la differenza, nella prima parte le figure rispecchiano esattamente lo stile grafico che era dell'edizione di Euclide del 1482. Alcuni studiosi hanno fatto l'ipotesi addirittura che lui avesse raffigurato questi storidi guardando dei modelli reali. Un cospicuo gruppo di studi leonardeschi riguardante diciamo la quadratura delle lunule è stato raccolto nel testo deludo geometrico, scritto tra il 509 e il 514 come ci dice Leonardo stesso. Qui vedete scritto elementi ludi geometrici, ovviamente l'ho ribaltato perché Leonardo scriveva nell'altro senso, l'ho ribaltato per farvelo leggere e nella prefazione, nella presentazione, più che prefazione, di questo scritto che è stato raccolto appunto sulla base di tutti i testi che riguardano questo argomento nei vari manoscritti, lui stesso ci dice cosa significa quadrare, quadrare una lunula o una in generale una figura lati curviline, significa trovare un quadrato o una figura lati rettilini equivalente cioè avente la stessa area della figura rettilinea. Spiego brevemente cos'è una lunula, la lunula è la regione di piano compresa tra due archi di circonferenza che hanno in comune gli estremi e giacenti dalla stessa parte rispetto alla corda comune. Qui ne vedete due, vedete la lunula in grigio e l'altra parte opposta, non posso indicarlo perché non c'è la possibilità e l'altra in bianco. Le ricerche sulle lunule sono molto antiche, risalgono al matematico greco Ippocrate di Chio che Leonardo conosceva attraverso il testo enciclopedico di Giorgio Valla che ne parla appunto nel primo capitolo del quarto libro. Forse il foglio più famoso relativo alle lunule è questo, in cui, che qui vi ho proposto, in cui sono studiate ben 177 variazioni di lunule e che mostrano, diciamo, anche proprio la fantasia dell'artista che si è sbizzarrita in modo portentoso. Quindi si vedono le finalità matematiche perché sotto ciascuna c'è la spiegazione di come quadrare questa lunula, ma si vedono anche le finalità artistiche. Leonardo stesso ci piega il metodo dimostrativo. mi dispiace che non si vedano bene i chiari e gli scuri. Il metodo, comunque cerco di far capire, il metodo dimostrativo di Leonardo che è un metodo che possiamo chiamare per sottrazione e addizione di parti uguali. Per esempio in questa figura la regione grigia, che è quella curva, è equivalente al triangolo, come si può capire perché si ottiene togliendo al triangolo quel segmento circolare bianco indicato dalla freccia e spostandolo sull'altro lato. Altri strumenti che utilizza è l'uso della rotazione e l'uso della simmetria rispetto ad un asse. Purtroppo anche qui le figure non si vedono, mi spiace molto. difficile spiegare se la figura non si vede. Comunque nonostante diciamo la complessità e il disordine dei manoscritti si possono classificare tutti questi studi che lui fa sulle lunule in gruppi e così ha fatto Marco Longo nel 1928 e lui individua quattro gruppi di figure. Ci sono le figure derivate dalla prima lunula quadrabile di Ippocrate di Chio. Questa prima lunula quadrabile è indicata nella prima figura ed è molto semplice perché si applica il teorema di Pitagora generalizzato al triangolo ABC e quindi i segmenti circolari costruiti sui lati, sui cateti AB e AC, sono la loro somma equivalente al segmento circolare costruito su AB. Per cui la lunula che dovrebbe essere in grigio ma che forse si intravede, cioè proprio la parte a luna, l'area della luna è uguale all'area del triangolo ABC. Questo è un altro esempio, anche qui la regione colorata in grigio che non si vede, è uguale a quella del quadrato ABC. Vabbè, qui c'erano le frecce che stavano indicare l'equivalenza di queste regioni. Qui ci sono altri tre esempi che appunto non posso mostrarvi, comunque nel primo caso le due lunule bianche sono equivalenti al triangolo rettangolo esoscele rosso che è la metà di un quadrato e dunque tutta la regione bianca è pari diciamo al quadrato H, G e F e quindi diciamo la parte bianca più quella grigia hanno entrambe area, come area doppia di questo quadrato H, G e F. è difficile capirlo senza vedere i colori ma pazienza. Mi soffermo su questa rosetta, anche questa rosetta è quadrabile, questo si desume facilmente dal fatto che come l'ha ottenuta Leonardo? L'ha ottenuta prendendo la luna o la quadrabile di Ippocrate ruotandola di 45 gradi, otto volte ovviamente ruotandola di 45 gradi riempie tutto il cerchio, essendo ciascuna l'unula quadrabile, anche la rosetta sarà quadrabile. E qui si vedono i disegni sui manoscritti. Ci sono poi altre figure che derivate, come dice Marco Longo, da bisangoli di 90 gradi, cioè sono i bisangoli, sono queste forme a fuso, per così dire, formate da archi di cerchi, da quadranti di cerchi uguali. Anche qui non si vedono i bianchi e i grigi, quindi è difficile spiegare. In ogni caso la regione bianca è quadrabile e ha la stessa area del quadrato iscritto nel cerchio. Queste altre figure, ecco, queste due, le prime due, si ottengono semplicemente ponendo in modo diverso i bisangoli e invece quelle sotto si ottengono facendo il negativo, diciamo, una dell'altra. Per cui anche qui vedete la variazione incredibile di Leonardo. Ci sono poi le lunule falcate che si chiamano così perché ci sono quelle figure che sarebbero in grigio, quelle regioni grigie che hanno la forma di falce. E anche qui è facile dimostrare, basandosi su quelle precedenti, che la ragione biana ha la stessa area del triangolo ABC. Qui ho riportato, ripreso, appunto, le parti in cui Leonardo tratta queste lunule falcate. Ecco, diciamo, il gusto artistico ed estetico si vede soprattutto in questa scomposizione del cerchio in stelle bisangolari. Come vedete ci sono due cerchi concentrici, all'interno del minore ci sono sette cerchi, ognuno dei quali contiene 84 parti. Come dice? Contiene 84 parti. Il numero 6 è quello che guida, insomma, questa scomposizione. E difatti, nella parte superiore, che qui non ho riportato per dare tutta, mettere in tutta evidenza questo bellissimo ricamo, possiamo chiamarlo così, nella parte superiore sono elencati tutti i multipli di 6, però Leonardo fa un errore perché quando deve calcolare 6 per 34, mi pare sì, scrive 104 anziché 204. Quindi riporta poi fino alla fine l'errore, ma questo non toglie nulla la bellezza di questa figura. Accanto all'interesse matematico e al gusto estetico c'è anche proprio un vero proprio gusto ludico, come dicevo, il piacere del disegno geometrico, del gioco, che si vede nelle innumerevoli variazioni e ripetizioni che Leonardo fa. Però non c'è solo questo. Lo storico della scienza Weltman ha, diciamo, ha sottolineato un collegamento che c'è tra gli studi anatomici di Leonardo e le lunule. Come si può vedere da questi disegni che sono via via più geometrici e rappresentano la valvola cardiaca aperta e chiusa. Quindi proprio in Leonardo c'era questa capacità di sintesi incredibile dei saperi. E tutto il ludo geometrico è l'espressione principale delle ricerche di Leonardo da Vinci sulla quadratura del cerchio. Quadratura del cerchio che aveva una storia secolare che inizia appunto nel mondo antico. Il cerchio, come sapete, non è quadrabile, con riga e compasso, però questo sarà dimostrato solo alla fine dell'Ottocento. Naturalmente Leonardo per questi suoi studi non poteva prescindere dall'opera di Archimede che infatti il de misura sulla misura del cerchio che infatti conosce anche se poi non l'aveva capito veramente a fondo come si vede da questa frase in cui dice la quadratura del cerchio di Archimede è ben detta e maldata. E' ben detta, adesso lo dico con la terminologia nostra, è ben detta quando lui afferma che il triangolo rettangolo avente per base la circonferenza, che il cerchio equivalente al triangolo rettangolo avente per base la circonferenza rettificata per altezza arvaggio. Però è maldata dove lui quadra, cioè quadra un poligono regolare di 96 lati e difatti aggiunge, e questa in nessun modo è da essere detta quadratura di cerchio. Ma in realtà Archimede non voleva affatto quadrare il cerchio, era troppo un fine matematico, lui voleva semplicemente trovare un'approssimazione, un valore approssimato di pi greco, cioè del rapporto tra la circonferenza e il diametro. Leonardo è convinto di aver trovato la quadratura del cerchio per ben due volte e come appare da queste citazioni che tra l'altro ci mostrano come lui lavorasse anche di notte, lavorasse di domenica, quindi sempre. Però evidentemente si accorse dell'errore e tant'è che poi gli studi continuano anche dopo. Per mostrarvi proprio la versatilità di Leonardo ho voluto, quindi per mostrarvi quali metodi, quanti metodi lui usava, mostrarvi questo piccolo esempio che ho chiamato di geometria dinamica e che lui chiama geometria che si prova col moto. Difatti scrive la linea si fa col moto del punto, la superficie è fatta dal moto della linea, il corpo è fatto dal moto che ha lo spazio della superficie e così via. E qui vedete c'è un manoscritto dove lui calcola le aree delle superfici laterali di alcuni solidi con lo sviluppo di queste superfici su di un piano. Qui vedete un cilindro che sembra appunto un vero cilindro che si srotola diciamo sul piano. C'è anche un altro metodo che lui usa ed è la cosiddetta geometria delle trasformazioni, possiamo chiamare geometria delle trasformazioni, che riguarda le trasformazioni di solidi, come scrive lui, senza diminuzione, senza crescimento di materia. Anche qui ci dà l'indicazione dell'epoca in cui iniziò questi studi che è nel luglio del 1505. Ecco, uno dei problemi più antichi di trasformazione, anche se di tipo diverso rispetto a quello di Leonardo, è il problema della duplicazione del cubo. Anche il problema della duplicazione del cubo non è risolubile con righe compasso, tant'è che i matematici greci non riuscendo a risolverlo con righe compasso si cimentarono in altri modi. Uno di questi modi fu scoperto da Ippocrate di Chio nel V secolo a.C. Cosa fece Ippocrate di Chio? Ridusse il problema della duplicazione del cubo a quello dell'inserzione di due medie proporzionali tra due segmenti dati. Ecco, cosa significa? Che dati due segmenti A e B bisogna costruirne altri due X e Y che formino una proporzione di questo tipo. A sta X come X sta Y come Y sta B. Allora noi col nostro simbolismo, Ippocrate di Chio non scriveva queste, si esprimeva esclusivamente verbalmente, ma noi col nostro simbolismo possiamo immediatamente vedere che, risolvendo la proporzione, che è ponendo B uguale a 2A, che il problema equivale alla duplicazione del cubo. E Leonardo conosce questo problema sempre dall'opera enciclopedica di Leonardo Vallad, Expetendis e Fugendis Rebus, ed è in grado di risolvere graficamente il problema di inserire due medie proporzionali e lo sfrutta nei problemi di questo piccolo trattato, diciamo che in qualche modo è quello più sistematico dell'opera di Leonardo. Tra l'altro lui conosce e usa anche l'opuscolo di Nicola Cusano sulla trasformazione geometrica, sulle trasformazioni geometriche, perché riprende molti dei risultati di Cusano. La trattazione di Leonardo si suddivide in tre libri, nel primo riprende le trasformazioni elementari di geometria piana che ci sono negli elementi di Euclide e quindi ha un po' il carattere di introduzione, nel secondo risolve graficamente i problemi che noi riconduciamo queste equazioni, ribadisco Leonardo non aveva il simbolismo all'epoca, il simbolismo matematico non era ancora sviluppato, bisogna aspettare Descartes nel 600 e comunque noi li possiamo tradurre in queste equazioni di secondo e di terzo grado. Il terzo libro più laconoso è quello più laconoso e più o meno i problemi si riconducono alle stesse equazioni, c'è solo un caso in più che è quello che ho qui indicato. Vi faccio solo un esempio per farvi capire che cosa sono questi problemi di trasformazione, ne ho scelto uno, trasformare un cubo in un parallelepipedo retto, ovviamente lo esprimo col mio linguaggio, col nostro linguaggio, perché invece di parallelepipedo Leonardo parla di cilindro, quindi ha una terminologia diversa. Comunque trasformare un cubo in un parallelepipedo retto a base quadrata con altezza fissata. Se noi chiamiamo M il lato del cubo e H l'altezza del parallelepipedo dobbiamo risolvere graficamente questa equazione M alla terza uguale a HX alla seconda. Allora qui Leonardo dà due soluzioni, una per tentativi, quindi è una soluzione insomma approssimata, e l'altra una soluzione rigorosa. Questa seconda soluzione, non entro nei dettagli, se qualcuno vuole si può vedere più nel dettaglio, che cosa fa Leonardo? Prima costruisce un parallelepipedo obliquo equivalente al cubo e a base, quindi è un parallelepipedo per cui ha una base, come base un rettangolo, successivamente trasforma questo rettangolo usando le proposizioni precedenti in un quadrato equivalente. E qui vedete la figura del testo di Leonardo e la figura ricostruita. Che cosa ci mostra queste, tutti questi problemi e il modo di affrontarli? Ci mostrano l'attenzione di Leonardo a presentare delle soluzioni che potessero essere capite e tradotte in atto anche dagli artigiani, dagli artisti, dei disegnatori. Quindi c'era sempre questa visione verso la pratica. E quando il problema non poteva essere risolto per via geometrica, Leonardo non si scoraggiava, ma utilizzava la via, quella che lui chiama la via di strumento. E un esempio di grande evidenza di questo è il cosiddetto problema di Al-Azzene. Al-Azzene era il nome con cui veniva chiamato all'epoca il matematico arabo Ibn al-Aittam che aveva posto questo problema nel suo libro di ottica che tra l'altro era noto a Leonardo perché attraverso l'esposizione di Vitelo. Esposizione di Vitelo che lui poteva aver visto manoscritta nella biblioteca Medigia di San Marco a Firenze. Il problema è questo ovviamente espresso col nostro linguaggio. Dati una sorgente luminosa L e un osservatore O, individuare su uno specchio sferico il punto P in cui è riflesso il raggio luminoso che esce da L e raggiunge O. Allora per le leggi della riflessione questo problema si riduce a trovare diciamo il punto P sulla circonferenza massima della sfera che io qui ho rappresentato che è complanare con L e con O tale che i segmenti L, P e L e O formino angli uguali con la tangente come ho indicato appunto nella figura. Leonardo prova più volte a risolvere per via geometrica questo problema non ci riesce e questo è comprensibile perché è un problema che se noi lo proviamo a impostare si riconduce un'equazione di quarto grado e la soluzione dell'equazione di quarto grado per radicali verrà data solo dagli algebristi del cinquecento appunto italiani nel cinquecento. E allora che cosa fa? Si costruisce uno strumento che è qui raffigurato, ecco l'unico che ho trovato raffigurato anche se la figura non è proprio il massimo. Quello che invece ho riportato qui è quello costruito da Marco Longo per verificare insomma la costruzione leonardesca e costituito da due aste che con una scanalatura che sono come dice che sono unite nel punto in questo punto C il quale è fissato ad una terza asta. Alle due precedenti aste ne sono collegate altre due a formare un rombo, un rombo che si può, è articolato diciamo perché l'altro vertice scorre sulla terza asta. Invece in questa immagine che vedete qui a destra vedete lo stesso strumento costruito a scopo didattico dal gruppo della matematica gruppo matematico dell'università di Modena e Reggio che appunto ha costruito a scopo didattico un gran numero di macchine matematiche. ecco da ultimo mi voglio occupare di ancora un poco di tempo voglio parlare brevemente di geometria e pittura perché come sapete un gruppo di testi dedicati alla pittura ci è pervenuto col titolo trattato della pittura forse furono raccolti dal discepolo di Leonardo Francesco Melzi e questi testi sono particolarmente interessanti perché appunto innanzitutto soprattutto se poi li vediamo insieme ad altri frammenti di altri manoscritti che riguardano più specificamente la prospettiva. In ogni caso questo testo inizia con l'affermazione che la pittura è scienza basata sulla geometria cioè sulle leggi della prospettiva. Per quel che riguarda quindi diciamo che Leonardo è figlio del suo tempo perché la prospettiva nasce nel rinascimento, lui conosceva i contributi di Leon Battista Alberti, si differenzia da Leon Battista Alberti perché mentre Leon Battista Alberti considerava solo la prospettiva lineare cioè quella che comprende le regole geometriche che servono per rappresentare sul quadro la realtà e lui dice che devono diminuire le cose che si allontanano dall'occhio, Leonardo considera anche due altri tipi di prospettiva, la prospettiva dei colori e la prospettiva aerea e qui ho mostrato gli esempi, la prospettiva lineare cioè quella in cui c'è l'applicazione delle regole geometriche e si vede benissimo nell'ultima cena nel Cenacolo conservato a Milano dove appunto le linee parallele confluiscono all'orizzonte. Invece in questi altri due quadri, la Gioconda e questo meraviglioso di Sant'Anna e la Vergine vedete invece la prospettiva aerea e quella del colore. Infatti i paesaggi sullo sfondo che sono lontani sono fatti in toni grigio-azzurri e i contorni diventano man mano che ci si allontana sempre più sfumati e meno netti. Nella trattazione della prospettiva lineare Leonardo parte da definizioni, da un certo numero di proposizioni che noi possiamo chiamare postulati perché svolgono la funzione di postulati e da questi ricava delle altre proposizioni che sono quelle note della prospettiva che c'erano già in Leon Battista d'Alberti. Vi cito per curiosità la definizione di punto, qui da due definizioni, dice punto, dico esser quello il quale non si può dividere in alcuna parte, che è la definizione euclidea sostanzialmente, e poi l'altra che è più relativa diciamo alla prospettiva, dice il punto è quello il quale stando nell'occhio riceve in sé tutte le punte della piramide. Ecco, di fatti poi successivamente definisce le linee piramidali che sono linee immaginarie che collegano i corpi a un unico punto e quindi formano una sorta di piramide. Nella definizione che io ho chiamato quattro invece illustra il punto di fuga con l'immagine suggestiva dei solchi fatti dagli aratri nei campi che sembrano congiungersi diciamo all'orizzonte. Tra i postulati ho citato l'occhio non vede se non per piramide. Ecco, qui poi vedete una proposizione tipica insomma della prospettiva. Cosa dice Leonardo? Trovo per esperienza che la cosa seconda che io ho rappresentato con A, se sarà tanto distante dalla prima che ho chiamato B, quanto la prima è distante dall'occhio apparirà la metà che la prima, benché fra loro siano di bari grandezza. Allora innanzitutto per quello, per il postulato 1, così l'abbiamo chiamato, possiamo costruire la piramide. Una volta costruita la piramide che parte dall'occhio e congiunge gli oggetti possiamo prendere sulla cosa seconda, come la chiama Leonardo, il segmento EH, possiamo congiungere E con H con l'occhio che queste rette individueranno sulla cosa prima, i punti FG, che individuano un segmento FG. Questo segmento per la similitudine dei triangoli è la metà di H, poiché FG, FO è la metà di EO. Quindi queste sono proprietà che Leonardo conosceva e che cos'è FG? FG è come appare, insomma, ad O, cioè all'osservatore, all'occhio, il segmento EH in prospettiva rispetto a B. Quindi prima di leggere questa citazione voglio spiegare cosa vuol dire per esperienza. Ce lo spiega Leonardo stesso. Esperienza vuol dire con espedienti pratici, come erano le lastre di vetro, cioè l'uso delle lastre di vetro, che era d'uso comune all'epoca, su cui si disegnavano le cose guardate. Ecco, poi ho messo questa citazione sempre di Weltman, il quale sottolinea un triplice aspetto della prospettiva leonardiana. Quindi la prospettiva non solo serve a creare un ponte visivo tra l'oggetto reale, diciamo, e il suo equivalente geometrico astratto, o di rappresentare tridimensionalmente le figure geometriche colbando così il divario tra la geometria e il mondo naturale, ma serve anche visualizzare dei fenomeni naturali come la forza del vento, la concentrazione del calore, proprio perché Leonardo considerava i tre tipi di prospettiva lineare, aerea e del colore. Ecco, adesso volevo semplicemente fare qualche conclusione, non è facile concludere. Ho già detto all'inizio che Leonardo non si può etichettare rigidamente, quindi non si può dire che Leonardo un matematico, cioè Leonardo usava la matematica o si divertiva con la matematica. Del resto la sua opera ci è giunta in forme di varia natura, disegni, aforismi, riflessioni sparse, progetti di macchine, tavole anatomiche, scritti matematici, disegni, ecco. E quindi, come dice Paolo Rossi, appare frantumate come polverizzate in una serie di osservazioni sparse di appunti scritti per sé medesimo. In realtà Leonardo, almeno mi sembra che questo emerga, non ha interesse per la scienza come un corpus sistematico organizzato, non gli interessano le trattazioni sistematiche, né la concepisce come un'impresa pubblica e collettiva. Lui, a mio parere, per quello che ho visto, era piuttosto individualista. E poi oscilla tra i due cardini metodologici. Spesso fa l'elogio dell'esperienza. Leggo qui, a me pare che quelle scienze siano vane e piene di errori, le quali non sono nate dall'esperienza madre di ogni certezza. E, d'altra parte, altre volte elogia la ragione, di cui la matematica è la guida. Intendi la ragione, non ti bisogna esperienza. La natura è piena di infinite ragioni che non furono mai in esperienza. Allora, quale, diciamo, Leonardo possiamo ricostruire? Io penso che possa essere ancora valida l'affermazione dello storico della scienza Bellone, che dice molto semplicemente, dobbiamo accettare il primo e il secondo. L'oscillazione tra due cardini metodologici è la realtà di un Leonardo che cerca di capire ciò che osserva. Leonardo vive il suo tempo come pensatore che si interrogava a proposito di ciò che, con una felice espressione, Coiret indicava come il pensiero tecnico del senso comune. Coiret nel suo libro famoso, nel mondo del pressapoco, dal mondo del pressapoco, l'universo della precisione. In ogni caso, possiamo dire che i punti di forza di Leonardo, mi sembra che emergano anche da queste poche cose che abbiamo visto, sono l'intuizione che le scienze della natura non debbano essere solo qualitative, come in passato, ma quantitative. Lo spirito di osservazione, l'abilità manuale, la grande intuizione geometrica e cinematica. Anche l'intuizione metodologica, cioè l'importanza dell'esperienza, che per lui significa, non è ancora l'esperimento come lo intende il fisico d'oggi o come lo intenderà anche Galileo Galilei, ma è piuttosto osservazione dei fenomeni, annotazione dei dati. L'importanza di un linguaggio univoco. Nei suoi manoscritti ci sono liste di definizioni e poi l'interesse appassionato per i fenomeni naturali, per tutti, anche quelli più modesti, più infimi, apparentemente di poco rilievo. E in un articolo del 53, il fisico teorico Enrico Persico, sottolineava proprio, dedicato al metodo leonardiano, sottolineava proprio questi aspetti e aggiungeva anche che però a Leonardo mancava la perseveranza, che invece insieme a tutte queste sono le doti che devono caratterizzare anche il fisico moderno. In ogni caso penso che uno dei suoi più grandi meriti sia proprio quello, come è stato detto, di creare dei ponti visibili che uniscono il mondo naturale a quello geometrico astratto. E per finire voglio mostrarvi un'immagine emblematica, emblematica della complessità di Leonardo. Sono queste belle immagini di noti e nodi vinciani che si trovano all'Ambrosiana di Milano e che si ritrovano anche in quadri di Leonardo, come in questo della Gioconda, e nei suoi manoscritti, come in questo piccolo disegno del Codice Atlantico. Grazie. Ti ringrazio molto. Davvero non potevamo concludere in modo più, come possiamo dire, più magistrale questa serie di lezioni perché davvero anche chi, come vi parla, storica dell'arte e soprattutto storica del disegno, ha ritrovato molti punti e molte tangenze, molti riferimenti a questa personalità che quando parlava da storico e da artista parlava da scienziato e quando parlava da scienziato parlava evidentemente anche da artista. E tra l'altro tu prima ricordavi appunto il, come possiamo dire, questa costruzione apparentemente farraginosa, priva di un motivo conduttore. In realtà più che mi ricordava appunto il modus operandi di Diderot sul fronte della storico-artistica, lui scrive «Pans et détaché». Quindi queste sorte di anaforismi e queste sorte di soluzioni concettuali così apparentemente così epigrafiche ma così profonde. Ma mi veniva in mente una cosa, purtroppo il tempo è tirante e dobbiamo essere molto veloci. Ma una cosa che mi ha sempre affascinato è per esempio nel libro della pittura che è appunto questa silloge di frasi, di notazioni, di osservazioni leonardiane raccolte appunto da Melsi, quando Leonardo scrive ad un certo punto e parla della differenza tra la linea e la linea matematica. La linea ovviamente è quella attraverso la quale si crea la struttura morfologica dei corpi, quindi la linea che noi andiamo a riscontrare quando studiamo Leonardo disegnatore e artista, la linea matematica è tutt'altra cosa. E devo dire che la tua lezione finalmente mi ha chiarito totalmente questa situazione diaframmatica, questo discrimine così strutturale che Leonardo ovviamente cite in maniera epigrafica così molto molto veloce ma che finalmente oggi di questo davvero ti sono estremamente grata, hai ben chiarito. Ed è poi l'ultima cosa che volevo ricordare e che mi sembra molto interessante e come tu hai appena ricordato, l'importanza di un linguaggio univoco. Perché in realtà il linguaggio storico-artistico di Leonardo cerca sempre questa unificazione, questa, la possibilità di un linguaggio che sia universalmente comprensibile ma allo stesso tempo sia profondamente significante e significativo, quindi abbia una densità semantica davvero, come possiamo dire, complessiva. Poche cose, mi piacerebbe molto ovviamente continuare su questo tema, purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, però davvero ab immo pectore, come diceva Cicerone, grazie a Livia Giaccardi. Grazie a te. Con questo seminario concludiamo il ciclo, ovviamente la Fondazione Firpol Università di Torino continuerà a lavorare su temi leonardiani fino al 31 dicembre, giorno in cui questo centenario, e comincerà ovviamente Raffaello, poi Juvar, poi Dante, quindi un calendario estremamente pieno di impegni. Grazie a tutti e alla prossima situazione. Grazie. Grazie.